Lo scontro adesso è inevitabilmente politico con il PD che parla di un movimento a 5 stelle ma con due pesi e due misure visto che i parlamentari nazionali coinvolti non sono mai stati di fatto sospesi. I tre deputati sono tra i 14 indagati compresi altri due deputati regionali e un cancelliere del tribunale. Per loro la procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il pasticcio delle firme ricopiate nel 2012 per rimediare ad un vizio di forma che avrebbe invalidato la lista per le amministrative. I reati contestati a vario titolo dal procuratore aggiunto Dino Petralie e dal sostituto Claudia Ferrari sono il falso e la violazione della legge in materia elettorale. Tra gli indagati spicca il deputato nazionale Riccardo Nuti che nel 2012 era candidato sindaco e le parlamentari Giulia Di Vite e Claudia Mannino. Secondo la procura Nuti e un gruppo ristretto di attivisti come Di Vita Mannino e Samantha Busalacchi dopo essersi accorti che per un errore di compilazione le firme raccolte erano inutilizzabili avrebbero deciso di ricopiare le sottoscrizioni ricevute correggendo il vizio di forma. A 11 indagati i PM contestano la falsificazione materiale delle firme. A Nuti per il quale non c'è la prova della commissione del falso materiale si imputa invece l'avere fatto uso delle sottoscrizioni ricopiate. Il tredicesimo indagato è il cancelliere del tribunale Giovanni Scarpello. Per lui l'accusa è di avere dichiarato il falso affermando che erano state apposte le firme in sua presenza. Firme che invece gli sarebbero state consegnate dai 5 Stelle. Reato di cui risponde in concorso con Francesco Menallo, avvocato ed ex attivista grillino che consegnò materialmente le firme al pubblico ufficiale per l'autenticazione.